8 giugno 1976, le Brigate Rosse uccidono a Genova il magistrato Francesco Cocco. Con lui muoiono anche i due uomini della scorta, Giovanni Saponara e Antioco Dejana. È la vendetta delle BR dopo che nel 74 Cocco si era opposto al rilascio di otto detenuti, ex militanti del gruppo 22 Ottobre, chiesto dai brigatisti in cambio della liberazione del giudice Mario Sossi. La Corte d'Assise di Appello di Genova aveva dato parere favorevole. Il 9 giugno, durante il processo di Torino, il delitto viene rivendicato dai militanti delle BR, fra cui Prospero Gallinari e Renato Curcio. Grazie a tutti.